buonasera 30 settembre 2022 news della settimana ciao roberto un saluto a tutti questa sera margherita non è con noi sta stava seguendo sta traducendo l'ultimo discorso che ha fatto putin oggi pomeriggio quindi siamo solo io roberto oggi ora prima di iniziare un annuncio velocissimo una nota di servizio attenzione per favore abbiamo dei grossi problemi con le pagine di facebook nostre l'unica cosa che vi dico adesso è di non fate non fate nessun versamento nessuna contributo nessuna o versamento di sostegno verso di noi perché sono soldi rubati facebook sta prendendo dei versamenti al nostro nome ma non viene assolutamente niente noi non chiediamo soldi su facebook a nessuno le uniche forme di supporto che abbiamo sono gli abbonamenti a contro tv oppure le donazioni sul luogo comune per cui state la larga nei prossimi giorni faremo un video più dettagliato nel quale vi spieghiamo proprio quali sono tutti i problemi che stiamo avendo con facebook nel frattempo ovviamente non versate un euro a nessuno sulle nostre pagine intendo allora roberto ovviamente venerdì scorso ci siamo lasciati dicendo venerdì prossimo commenteremo i risultati delle elezioni ormai sembra un evento rispetto a quello che è successo negli ultimi tre giorni sembra un evento lontano sei mesi quello delle elezioni io direi quindi di iniziare a parlare delle cose più recenti e cioè della questione ovviamente del gasdotto che è stato fatto saltare per aria allora io stamattina ho fatto un video abbastanza dettagliato che trovate in rete che si chiama sabotaggio al nord stream chi è stato e dove ho portato diversi elementi diciamo raccolto un po tutti gli elementi che sono emersi in rete più ne abbiamo aggiunti alcuni di nostri per far vedere come non ci sia ombra di dubbio sul fatto che gli unici a poter ricavare un utile a poter avere un vantaggio da questi sabotaggi sono gli americani che poi manualmente l'operazione sia stata svolta da qualcun altro è possibile chiaramente ma siamo sempre in ambito nato e quindi sotto regia americana allora per iniziare il discorso io direi di saltare appunto tutta la parte delle prove che già tutti conosciamo molto bene andiamo invece a quello che sono le probabili conseguenze c'è stato un intervento alla Fox News di Tucker Carlson il commentatore della Fox che ha detto chiaramente non solo che qui siamo stati noi ma adesso che cosa succederà nel senso che si pone la domanda dice se noi attacchiamo direttamente un'infrastruttura russa adesso i russi in quale diritto si sentiranno di reagire e in che modo vediamo per favore il video numero uno giorno blow up the Nord Stream pipelines? ok, we've entered a new phase one in which the United States is directly at war with the largest nuclear power in the world doesn't mean it'll go nuclear immediately but it does suggest there could be consequences if we actually blow up the Nord Stream pipelines why wouldn't Russia sever undersea internet cables? what would happen if they did that? what would happen if banks in London couldn't communicate with banks in New York? just that one piece of it leaving aside its potential effects on our power grid but let's just say the banks couldn't communicate with each other for one day what would the economic effect of that be? oh we would cascade downward into your house we could have an actual collapse we could wind up very quickly in third world conditions those are the stakes have the people behind this the geniuses like Tori and Nuland considered the effects? maybe they have maybe that was the point eccoci qua Roberto allora tu hai seguito mi stavi dicendo il discorso di Putin hai preso degli appunti ha fatto cenni anche oltre ai discorsi soliti che gli argomenti che ha già trattato in precedenza ha fatto dei cenni precisi anche riguardo alla questione del gasdotto? sì adesso mi risulta da verificare perché io ho preso una trascrizione di Pepe Scobar perché ne ho sentiti solo alcuni tratti che ha detto chiaro e tondo che il gasdotto è stato fatto saltare dagli anglosassoni che quindi non si sono accontentati delle sanzioni e ha aggiunto per quanto sembri assurdo cioè per quanto sembri incredibile ecco quello che è successo e ma chiaramente ha parlato di ripercussione anche perché i russi hanno una mentalità diversa rispetto a quelli occidentali è raro che reagiscono rapidamente sull'onda emotiva facciamo un esempio dopo l'11 settembre cinque minuti dopo ecco che gli americani già bombardavano l'Afghanistan chiaro che era tutta una messa in scena però è la velocità della reazione che è tipica occidentale ecco e i russi invece hanno una pazienza infatti data anche dall'allegoria dell'orso che è difficile da svegliare dall'etargo hanno una pazienza molto più lunga però se le marcano tutte riempiono un casellario di cose che subiscono e poi quando reagiscono allora pare che la loro reazione sia sproporzionatamente forte e violenta perché in realtà non è la reazione alla goccia che fa traboccare il vaso ma a tutto quello che è successo qui prima quindi l'occidente pagherà per questo che è stato fatto però non sappiamo come e quando ecco soprattutto non sappiamo come perché non è detto che sia asimmetrica come operazione comunque ci saranno delle conseguenze di sicuro perché in questo caso c'è un'azione diretta militare anche se diciamo compiuta segretamente contro un'infrastruttura russa infatti poi quando i pennivendoli le prostitutes come si dice in inglese e occidentali ti vengono a raccontare che Putin se lo sarebbe fatto da solo l'autoattentato diciamo che è delirante perché la Germania e la Russia sono le uniche due entità non sospettabili per questo delitto diciamo se fosse un'indagine di un crimine visto che sono le due vittime essenzialmente e mentre l'unico soggetto che ci guadagna andiamo a vedere il cui prodest a chi beneficia questo fatto sono gli Stati Uniti cosa che peraltro è stata anche scritta su un giornale cinese importante adesso non ricordo il titolo che l'unico che ha un vantaggio da quello che è accaduto sono gli Stati Uniti quindi di solito in geopolitica le cose che accadono non accadono per la stupidità di qualcuno che si dà la zappa sui piedi in maniera così clamorosa figuratevi piccola nota a margine che visto che hai mostrato qualcosa di Fox News sempre su Fox News in un'altra occasione qualcuno in un'intervista ha fatto la domanda che tutti noi ci facciamo ma perché Putin dovrebbe fare scoppiare il gasdotto quando gli bastava chiudere il rubinetto e l'altra persona che adesso non mi ricordo chi fosse ha risposto forse voleva farlo per dimostrarci che è matto e che è pazzo e che potrebbe anche fare la guerra nucleare siamo a questo livello di argomentazioni tanto per capirci in Occidente tornando alla realtà dei fatti e non a quella dei cartoni animati c'è stato un attacco diretto ad un'infrastruttura preziosa russo-tedesca e questa cosa non può rimanere senza conclusioni sia da parte russa ma anche da parte tedesca tanto è vero che i tedeschi proprio ieri o proprio oggi adesso non mi ricordo hanno votato contro in Parlamento a un innalzamento delle spese per appunto finanziare la guerra le armi in Ucraina quindi può anche darsi che anche i tedeschi stiano raggiungendo un punto di rottura perché poi chiaramente anche se fan finta di no sanno benissimo chi è stato è un atto di guerra contro la Germania ma non lo ha fatto la Russia quindi adesso ci saranno reazioni forse da parte tedesca di sicuro da parte russa quali esattamente non si sa ecco a proposito di reazioni tedesche scusi se saltiamo avanti vediamo il numero 5 per favore per favore io il mio tedesco è quello che è Sanktionen gegen die USA è il nuovo trend che fa tendenza il nuovo titolo che fa tendenza su Twitter e cioè praticamente sanzioni contro gli Stati Uniti quindi qualcuno in Germania chiaramente sta cominciando a capire o cominciando a stufarsi anche di questo perché ha capito che sono loro il coccio debole fra i due cocci di ferro non più tanto l'Ucraina a questo punto il vero oggetto della stretta mortale degli Stati Uniti adesso si è rivelato in tutta la sua evidenza e quindi chiaramente qualcuno e me lo auguro veramente che si svegliano in fretta i tedeschi che reagiscono perché è chiaro che in tutto questo sono loro lago della bilancia a proposito delle reazioni fra l'altro possibili proprio stamattina è uscito il messaggero vediamo la numero 2 per favore Putin potrebbe bloccare internet in Europa tagliando i cavi sottomarini l'allerta degli analisti black out devastante ma vi prego guardate per favore sotto la parte sottolineata in rosso dopo il gas Putin potrebbe bloccare anche internet quindi qui siamo veramente alla continuo mistificazione ormai è passato questa cosa che è stato Putin devono tutti adeguarsi a questa posizione pensate un po' la mancanza io non so io sento delle ferite nella testa quando vedo che non c'è logica in quello che la gente dice come fanno a non sentirle i giornalisti che scrivono queste cose? domanda retorica ovviamente comunque questo è un problema serio e a parte non è neanche una domanda retorica se andiamo a vedere perché ci sono i giornalisti in cattiva fede e sono la maggioranza probabilmente però per mia esperienza guardando i commenti di persone anche intelligenti che conosco su Facebook sono rimasto io stesso allivito a vedere che anche questi si prendono per buona anche se con una certa confusione la tesi mainstream che sia stato Putin cioè c'è proprio una sorta di blocco mentale che ormai è stato è stato stampato nei cervelli negli inconsci di tutte le persone c'è un blocco a pensare che gli Stati Uniti siano il nostro nemico perché nel momento in cui si accetta il fatto che questo gasdotto possa essere stato fatto saltare dagli americani crolla tutto crolla un'impalcatura della realtà e quindi arriviamo a questa cecità esterica rispetto all'ovvio a livelli che a noi che insomma guardiamo con un guardo disincantato ai sintomi che ci vengono dal mondo ci pare tutto così ovvio però dobbiamo renderci conto del punto di vista psicologico di persone che hanno investito tutta una visione della realtà sul fatto che comunque Putin è cattivo ma soprattutto gli americani sono buoni perché questo ristrutturerebbe nella mente di chiunque tutta la storia anche degli ultimi vent'anni cioè non è solo un fatto che bisogna capire bisogna a quel punto ristrutturare tutta una narrazione che nel frattempo è solida nelle nostre menti credo che per questo motivo ci possa essere paradossalmente anche qualche giornalista che in buona fede semplicemente stia vaneggiando ecco questo è quello che mi preoccupa di più tra l'altro perché nel momento in cui c'è solo gente in cattiva fede poi dovrebbe esserci la reazione di quelli diciamo che non hanno un interesse nella situazione che hanno capito e che alla fine prevalgono ma se c'è questo delirio condiviso da grandi quantità della società allora il problema si fa serio perché si continua ad andare nella direzione sbagliata ecco tra l'altro questo ci conferma il fatto che la strada della negazione della realtà e della viltà essenzialmente non paga alla lunga i tedeschi sono stati convinti a torto collo a congelare l'attività del 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 nord stream e e a non far partire il nord stream due e pensando evidentemente che un giorno poi sarebbero riusciti a farlo ripartire hanno si sono piegati pensando che poi in un secondo tempo avrebbero potuto rialzarsi ecco questo atto di sottomissione di viltà lo hanno pagato a caro prezzo perché si sono messi a 90 gradi pensando di rialzarsi invece gli è venuto il colpo della strega sono rimasti a 90 gradi e non diciamo quello che è successo alle spalle e questo mi riporta un pochettino volendo fare citare un fatto storico alla famosa frase di Churchill quando prima della seconda allo scoppio della seconda guerra mondiale disse al Parlamento avete dovuto avete avuto la possibilità di scegliere tra il disonore e la guerra e avete scelto il disonore e avrete anche la guerra ecco adesso noi siamo in una situazione dove i tedeschi e virtualmente tutti gli europei è stato detto avete dovuto scegliere fra lo scontro con la Russia e lo scontro con gli Stati Uniti avete scelto lo scontro con la Russia e adesso avrete anche lo scontro con gli Stati Uniti dunque tu segui da vicino Pepe Scobari questi giorni ha scritto tre o quattro articoli diversi uno è vediamo la tre per favore la Germania e l'Europa hanno ricevuto la dichiarazione di guerra praticamente questo è il titolo cosa ritiene lui cosa pensa che potrà succedere nel breve medio termine rispetto all'escalation possibile beh lui dice adesso la Russia si toglierà i guanti soprattutto perché come abbiamo detto proprio adesso è stata riconosciuta è stata riconosciuta l'adesione alla Russia delle regioni ucraine dove si è svolto il referendum e tra l'altro una piccola nota a margine ho visto qualche telegiornale in questi giorni e non si è mai parlato di referendum controverso contestato no si chiamava referendum farsa quindi c'è questo giudizio a priori già nell'etichettatura dell'argomento che è abbastanza vergognoso per dei giornalisti ci sta che possano mettere in discussione la correttezza del voto però che lo etichettino così a prescindere da qualsiasi ragionamento è abbastanza grave comunque Pepe Scobar menzionando poi anche il discorso di Putin di oggi quindi proprio le sue ultime dichiarazioni sono che a questo punto il gioco è il momento dove il gioco può iniziare a farsi veramente duro nel discorso di oggi Putin ha tra l'altro detto che è aperto a negoziati di pace con l'Ucraina sarebbe ora di mettersi al tavolo chiaramente che essi si dimentichino quelle regioni che hanno aderito alla Russia però il sottotesto è che se questo non avverrà e probabilmente con quasi certezza non avverrà anche perché gli ucraini non credo che siano nel possesso delle proprie decisioni a questo punto i russi probabilmente lancierebbero la vera guerra e la guerra vera ecco questo quello che dice Pepe Scobar probabilmente inizierebbe con una distruzione delle infrastrutture delle infrastrutture ucraine che per il momento sono state risparmiate rendiamoci conto che attaccando le infrastrutture e abbiamo visto adesso che i russi sono appena stati vittimi di un attacco a delle loro infrastrutture attaccando le infrastrutture si ferma tutto cioè sei in grado di spegnere un paese attaccando le infrastrutture elettriche quindi diciamo il rischio che adesso ci sia un'accelerata di fatto siamo all'inizio di una grande guerra mondiale e l'Europa continua a completamente in modo irrazionale a dirigersi i tedeschi come detto hanno voluto piegarsi prima e adesso non è chiaro se avranno più occasione di riprendersi il loro destino sembra segnato non avranno più energia tra l'altro la tesi occidentale del ricatto russo del gas con cui ci hanno fracassato i timpani per settimane la Russia sta ricattando l'occidente col gas ecco adesso con questa esplosione non può più ricattarla quindi è chiaro che se fosse stata la Russia a farsi esplodere i gasdotti lo avrebbe fatto per impedirsi di poter ricattare l'Europa col gas perché adesso non può più fornirle energia neanche se decidesse di fornirle quindi in realtà il suo potere di leva sull'Europa si è interrotto quindi comunque c'è ancora un elemento c'è ancora il gas che transita attraverso l'Ucraina ma ci sono già voci che a questo punto potrebbe essere la Russia a decidere di interrompere anche quella a quel punto noi rimarremo completamente al freddo una volta che si esaurissero le riserve che abbiamo fatto per l'inverno certo dunque sulla questione del gasdotto c'è solamente una cosa in più ancora che volevo non è che dobbiamo commentarla veramente l'avete già vista tutti in rete ma vorrei che restasse anche come dire nel nostro archivio delle news facciamo a vedere per favore la quattro questo è il famoso tweet di Sikorsky un parlamentare europeo della Polonia che è già ex ministro degli esteri polacco che poche ore dopo l'attentato ha scritto semplicemente thank you USA cioè grazie America poi dopo ha fatto marcia indietro lo ha cancellato ha detto che non intendeva quello ma ovviamente siamo a ridicolo pensate un ex ministro degli esteri polacco europeo quindi della Nato che si lascia scappare un grazie America da cuore proprio evidentemente l'aspettavano questa cosa talmente tanto che non ha resistito e ha fatto il tweet dopo un po' si è reso conto e l'ha tolto ma nel frattempo l'aveva già rituitato mezzo mondo si è buffo che anche quando qualcuno ti dice la verità poi se uno non vuole sentirci si tappa le orecchie e non registra lo stimolo perché io addirittura appena lo vedi pensai che fosse una sorta di ironia anche io invece no lo intendeva sul serio cosa che poi si vinceva anche dal prosieguo del del Fred perché poi in seguito in altri commenti lui diceva adesso noi siamo sempre stati contro questo gasdotto adesso finalmente è solo più o meno cito a braccio è solo un pezzo di lamiera sul fondo quindi era molto contento ha ringraziato gli Stati Uniti per quello che era successo e questo non fa suonare un campanello d'allarme in nessuno degli ipnotizzati d'Europa esatto adesso io non so io nel video di stamattina ho detto che nessun giornalista italiano ha osato obiettare a questa narrativa tutta contro Putin magari qualcuno c'è stato per cui nel caso mi scuso io ho generalizzato però è chiaro che il messaggio che è passato sul nostro mainstream è quello cioè ha stato Putin il famoso ha stato Putin che è diventato da meme è diventato una realtà effettiva senti commentiamo un attimo comunque le lezioni perché non è che possiamo proprio dimenticarci che ci siano state cinque giorni fa io devo fare una piccola notazione una correzione settimana scorsa avevo detto che Meloni aveva fatto un voltafaccia rispetto al Green Pass nel senso che prima era favorevole e poi adesso si è dichiarata contraria invece mi è stato segnalato che il Fratelli d'Italia era sempre stato contrario fin dall'inizio per cui ho dato un'informazione sbagliata in effetti sono andato a verificare avevano fatto addirittura una protesta in Parlamento contro il Green Pass quindi su questo le va dato atto adesso peraltro andrà lei al governo ha più del doppio dei voti degli altri no più del doppio no ma quasi la somma più della somma degli altri due messi insieme quindi potrà sicuramente dettare le condizioni all'interno del suo nuovo governo e quindi le aspettiamo tutti al varco e ci aspettiamo che tenga fede alla parola data e quando ha detto mai più Green Pass che sia veramente una promessa che manterrà davvero una cosa vorrei anche che rimanesse nei nostri piccoli archivi perché sabato scorso è uscito un titolo una prima pagina di Repubblica ma veramente scandalosa facciamola vedere la slide numero 6 per favore questo è il sabato 24 settembre quindi a meno di 24 ore dall'apertura delle urne Repubblica pubblica messaggio di Zelensky agli italiani non votate gli amici di Putin allora qui ci sono due cose da dire primo che fino a ieri Repubblica in testa e tutti i loro correlati che li correvano dietro urlavano disperati strappandosi i capelli perché secondo loro Putin tentava con un non so cosa che avesse detto dieci giorni prima di influenzare le elezioni italiane mentre loro pubblicando non votate gli amici Putin che cosa stanno facendo se non tentare di influenzare le elezioni italiane secondo il 24 settembre mi risulta che fosse silenzio elettorale per tutti gli altri invece Repubblica può violarlo tranquillamente fare un titolone a nove colonne cioè signori fanno schifo glielo dico proprio in faccia fate schifo cioè c'è un limite anche ad essere come siete voi voi siete oltre quel limite è una cosa ma neanche vergognosa è una parola che non si può più usare dimmene una tu Roberto che a me non me ne vengono bisognerà inventare cognare qualche parola a punta comunque siamo da Guinness dei primati ecco stanno scalando vette mai raggiunte o più diciamo abissi mai sprofondati no è pazzesco è pazzesco senti commento generale veloce io avevo fatto già un un post l'altro giorno sul commento delle sul mio commento delle elezioni io ho attribuito ovviamente la grande sorpresa nella nostra area che è stato che nessuno dei partiti di cosiddetti antisistema sia riuscito ad entrare in Parlamento io avevo individuato il problema principale non l'unico ma il principale nel fatto stesso di essersi presentati non solo disuniti e quindi confondendo l'elettore che doveva scegliere fra tre quindi andando a dividere i voti invece di unirli ma soprattutto massacrandosi e riempiendosi di insulti gli uni con gli altri io credo che sia un errore di cui si sono resi conto tutti anche se ancora non l'hanno ammesso ma penso che alla fine sia questo che possiamo archiviare come commento generale cioè al di là di chi ha preso una 9 una 7 una 5 è chiaro che con un'area di voto così potenzialmente forte come quella del dissenso portare a casa una somma risicata di tre e mezzo o 4 diviso per 3 è veramente un disastro cosa pensi tu Robby? Sì ognuno dei due fattori appunto quello di essersi presentati e divisi e poi quello di essersi attaccati sbranati e insultati a vicenda si sono potenziati a vicenda come uno ha potenziato all'ennesima potenza all'altro ecco credo che quello sia il motivo principale e poi c'è anche comunque nel da mettere nel novero del delle della delusione il fatto che viviamo comunque tutti in una sorta di eco chamber c'è una stanza dell'eco sui social abituati a vedere e interagire solo con persone che tendono a pensarla come noi e quindi ci siamo fatti la sensazione che il dissenso manifesto ecco in Italia di quelli pronti a fare qualcosa per fare qualcosa per cambiare le cose fosse più ampio di quello che in realtà fosse però guardando anche le cifre dei nostri talk show che sono assolutamente eccellenti però centomila visualizzazioni sono un grande tesoro di attenzione però confrontiamoli con i 50 milioni di italiani che ci sono è chiaro che il mainstream continua a a prevalere in maniera gigantesca alla luce proprio di questa spolporazione direi che nonostante la delusione il risultato in realtà è anche buono perché sono vari punti percentuali di persone che hanno votato per dei partiti appena nati con dei nomi in certi casi come Italia Sovrana che decisi poche settimane prima quindi in realtà un risultato meno peggiore meno cattivo di quello che in altre condizioni si sarebbe verificato se adesso però queste forze non trovano modo di unirsi vabbè allora chi cercherà di non unirsi tradirà il fatto di avere un'agenda diversa perché la elezione dovrebbe essere chiara a tutti a questo punto chi insistesse sulla sulla non retta via beh vuol dire che secondo me ha qualche qualche a qualche finalità non dichiarata ecco oppure dei paraochi fatti di specchi per cui vede solo se stesso dunque due notizie alattere diciamo che seguono queste elezioni una e vediamo la sette per favore oggi con un tempismo incredibile è stata licenziata Lunzia Schilirò praticamente hanno aspettato di vedere che esser sicuri che non entrasse in Parlamento hanno aspettato anche il riconteggio e poi le hanno dato il ben servito e giustamente Lunzia Schilirò nel suo video che ha fatto che è stato pubblicato dal Corriere diceva io sono stata licenziata per aver espresso la mia opinione secondo il diritto costituzionale di libertà di opinione mentre i poliziotti colpevoli dei fatti di Genova di vent'anni fa oggi sono ancora tutti in servizio ecco ognuno naturalmente può valutare le due cose e trarre le sue conclusioni ultima cosa questa qui fa parte della festa interiore che credo molti di noi avranno vissuto nel vedere Di Maio che è stato sderenato praticamente laddove pensava di essere al sicuro e a questo si aggiunge anche il fatto vediamo scusami questa qui c'è una G non ho messo il set quella lì grazie mistero sulla pagina facebook di Luigi Di Maio sparito il profilo da 2,4 milioni di follower qui non sappiamo se è lui che semplicemente ha deciso di andare a coltivare la meliga oppure se magari anche lui adesso che non è più ministro o che non sarà più ministro fra poco anche lui è finito vittima degli hacker di facebook cosa pensi Robby non voglio pensare a Di Maio quindi cerco di non avere opinioni riguardo comunque visto che appunto per disintossicarci appunto da questo argomento aggiungo una cosa che prima mi ero dimenticato di dire quando mi hai chiesto di riassumere quanto aveva scritto Pepe Scobar perché Pepe Scobar proprio oggi o ieri ha riportato anche la notizia rispetto all'esplosione del gasdotto che fonti diplomatiche avrebbero fatto trapelare la notizia che ci sarebbero state consultazioni segrete tra i tedeschi e i russi per trovare il modo di ripristinare il traffico del gas perché i tedeschi sono abbastanza pragmatici alla fine dopo essersi piegati ai famosi 90 gradi che dicevo volevano rialzarsi ebbene questo spiegherebbe perché queste esplosioni dovevano accadere prima che questo accordo venisse formalizzato ho capito è interessante nel prossimo due o tre settimane chiaramente vedremo che piega prende la Germania e da lì capiremo se c'è una speranza che in qualche modo gli equilibri cambino oppure no certo che se non cambiano vuol dire che gli Stati Uniti hanno veramente una forza di ricatto su tutta l'Europa che è spaventosa perché riuscire a piegare una nazione come l'Italia vabbè ma anche la Germania cioè riuscire proprio a andare a sabotargli in casa il gas tutti hanno capito che sono stati loro e gli hanno detto no voi questo gas lo dovete prendere da noi perché nel frattempo curiosamente lo stesso giorno è stato inaugurato un gasdotto che la Norvegia porta il gas fresco fresco buono buono alla Polonia e poi ovviamente a tutti gli stati confinati quindi è veramente è quasi uno sputti un occhio io spero veramente che i tedeschi abbiano un minimo di reazione di orgoglio sì infatti perché se non ci pensano i tedeschi non saremo certo noi temo a fare la mossa e a questo riguardo possiamo visto che ci stiamo avviando trionfalmente in stato di ipnosi profonda verso la fase più calda della terza guerra mondiale ecco che che nessuno di noi vuole tranne quelli che la cercano senza sapere di avviarvisi ecco citiamo la saggezza cinese di Sun Tzu che diceva che se non cambi direzione potresti ritrovarti dove sei diretto ecco quindi è il momento di cambiare direzione perché sennò poi finiremo esattamente dove siamo diretti bello questo bene allora Robby ti saluto e ci vediamo lunedì sera un saluto a tutti e vi lascio prima del solito a collezione di me ma c'è anche una piccola gifina dedicata a Di Maio non poteva mancare arrivederci a tutti e buon weekend musica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.